Questo video è per presentare il primo coach ufficiale di approccialla.it ovvero Andrea e per raccontarti chi è e che risultati ha vorrei giusto spendere alcune parole sul fatto che diversi anni fa quando ero inizi di questa attività, diverse persone mi avevano chiesto se per il futuro io avessi in mente di mettere altre persone oltre a me a tenere ricorsi a vivo e io avevo sempre risposto di no, avevo sempre avuto in mente questa cosa che no semplicemente per il fatto che replicare la mia esperienza, quindi mettere una persona che è competente che ha la mia esperienza a tenere ricorsi a vivo, era una cosa che era molto molto complicata da fare per il fatto molto banalmente, io il primo anno dal 2015 al 2016 sono uscito tutti i giorni, 365 giorni in fila tutti i giorni di approcciare ragazze, quindi anche perché ci sono delle competenze e delle abilità che non sono sviluppabili finché non lo insegni ad altre persone perché un conto è conoscere ragazze per conto tuo, avere risultati per conto tuo, andare a letto con ragazze semplicemente per conto tuo, per tuo interesse personale, un'altra cosa totalmente diversa è insegnare ad altre persone e far ottenere gli stessi risultati ci sono delle competenze che si sviluppano soltanto nel momento in cui lo insegni ad altre persone quindi per quello ritenevo che mettere un'altra persona al mio posto fosse, non dico infattibile ma semplicemente il percorso di formazione che questa ipotetica persona avrebbe dovuto affrontare sarebbe stato un percorso assolutamente lunghissimo però questo è quello che è successo, effettivamente Andrea ha affrontato tutto questo calvario per arrivare a sviluppare ad oggi un grado di competenza piuttosto alto ovviamente Andrea si è formato tramite tutti quanti i percorsi formativi di approcciare.it che siano consulenze, corsi al vivo, tutti i videocorsi nello specifico quando aveva iniziato, aveva iniziato con il videocorso dell'approccio alla camera da letto e poi successivamente con un corso al vivo nel 2020 e dopo il primo corso al vivo, questo è il risultato che poi l'ha portato ad essere uno dei top studenti di approcciare.it dopo soltanto il primo corso al vivo, è stato letto con 14 nuove ragazze qua sullo schermo sicuramente compariranno tutta quanta una serie di screenshot che tutte le volte che andavo a letto con una ragazza mi inviava sempre magari una foto anche della ragazza se riusciva magari a scattare qualche foto, tutte le volte mi diceva questa è la prima, la seconda, la terza quindi c'era tutto quanto documentato sono andato a recuperare tutti quanti gli screenshot dalla chat di Whatsapp fra me e Andrea e verranno messi qua in sovraimpressione semplicemente per dimostrare il grado di competenza di Andrea per far capire che non è la prima persona a caso, anzi oltretutto durante il 2021 ha già presenziato in diversi corsi al vivo che sono stati tenuti da me, dove lui ha presenziato diciamo come coach in prova e durante questi corsi al vivo mi sono reso conto che ormai era pronto per tutte le volte notavo che notava i stessi errori io quando guardavo gli approcci degli studenti, guardavo gli appuntamenti degli studenti tutte le volte notava i stessi errori che notavo io di conseguenza da quel momento in poi ho capito che era pronto per iniziare a tenere i corsi al vivo completamente in autonomia e poi un'ultima cosa sulla quale volevo spendere alcune parole è il livello di preparazione di Andrea e di poi qualsiasi altro eventuale futuro coach di approcciarla.it ovvero che è un livello di preparazione completo cosa vuol dire completo? Vuol dire che Andrea e qualsiasi altro eventuale futuro coach di approcciarla.it è in grado di portare un'interazione con una ragazza dall'approccio fino al sesso non soltanto al numerino di telefono oppure fino al bacio e io devo dirla questa cosa perché se no poi la gente mi chiede ma che differenze ci sono con i corsi al vivo di approcciarla.it e con quelli dell'altra nota accademia di miglioramento sentimentale che c'è in Italia io vorrei ricordare a tutti quanti e anche magari per chi non lo sa io ho passato dal 2015 fino a più o meno metà 2021 tutta la mia vita, tutti i giorni in piazza Duomo a Milano dove si sono svolti anche i corsi dell'altra nota accademia di miglioramento sentimentale che c'è in Italia le persone le ho viste, le ho visti come si svolgono i corsi ho conosciuto anche i trainer dell'altra nota le conosco le persone, so in retroscena tante volte non sono neanche retroscena sono anche cose pubbliche in quell'altra nota accademia di miglioramento sentimentale in Italia per diventare trainer tante volte sono semplicemente studenti che si sono distinti durante un corso al vivo dove magari sono arrivati al bacio con una ragazza poi ovviamente anche i trainer dell'altra accademia affrontano poi un percorso di formazione ma tante volte la cosa nasce semplicemente dal fatto che si sono distinti durante un corso al vivo e sono arrivati al bacio con una ragazza nel momento in cui un loro studente ottiene questo tipo di risultato quindi arrivare al bacio con una ragazza in un corso al vivo diventa già un possibile candidato per fare il trainer semplicemente perché le persone poi vengono in corsi al vivo e vogliono imparare ad approcciare per esempio ragazze di giorno per strada tante volte è già una conquista enorme soltanto il riuscire ad approcciare una ragazza per strada figuriamoci poi baciarla figuriamoci poi l'andarceletto però una persona che è in grado di arrivare al bacio in un approccio per strada in un appuntamento o quello che è non è che è così difficile che ti riesca a insegnare come approcciare come fare il primissimo passo quindi per questo che di là c'è un esercito di trainer perché il livello di competenza dei trainer e ripeto io alcuni li ho conosciuti anche personalmente io ci ho passato la mia vita in piazza Duomo a Milano e il livello di competenza non è effettivamente così alto perché semplicemente non è richiesto un livello di competenza alto potrei mettere anch'io un esercito di persone sai quanti miei studenti ci sono che hanno già questo tipo di risultato che sono anche molto ovviamente semplicemente in grado di approcciare per strada sono in grado di arrivare al bacio però non hanno ancora magari il risultato completo di riuscire ad arrivare al sesso potrei mettere tranquillamente un esercito di gente che è in grado di arrivare al bacio e però io personalmente non lo riterrei poi un servizio di qualità e un servizio che poi è completo che ti insegna tutto quanto dall'approccio fino al sesso tutto questo era per dire che in approcciarla.it lavoriamo in maniera diversa chi ti insegna quindi in questo caso mi riferisco ad Andrea e a qualsiasi altro eventuale futuro coach che ci sarà devono essere in grado di ottenere risultati completi dall'approccio fino al sesso perché altrimenti non c'è modo ti possono insegnare tutta quanta un'interazione completa dall'approccio fino al sesso aggiungo giusto un'ultima parentesi per farti capire meglio questo discorso c'è già in realtà un potenziale secondo coach di approcciarla.it non nomino perché non è ancora una cosa ufficiale e che subito dopo il corso al vivo in un periodo di tempo molto breve di qualche settimana forse di un mese non lo so circa un mese e mezzo è andato a letto con 5 nuove ragazze quindi e mi ha contattato e mi aveva manifestato interesse per fare questo tipo di lavoro lo sapevo già però chiaramente quando era il corso al vivo ancora non aveva risultati però è andato a letto subito dopo il corso al vivo con 5 nuove ragazze e gli ho detto ok ottimo risultato va bene facciamo che arrivi a 10 e poi ci risentiamo dopo che si è arrivato a 10 questo qua è semplicemente per dirti come potevo tranquillamente subito metterlo a fare diciamo il secondo coach ufficiale però è semplicemente per dirti che le persone che insegnano un approccio alla .it quindi in questo caso Andrea e tutti i vari coach futuri eventuali che ci saranno in futuro hanno un grado di competenza che è completo saperti insegnare tutta quanta l'interazione dall'approccio fino al sesso e non soltanto al numerino di telefono a farti fare giusto il passo iniziale di fare l'approccio e poi dopo non si capisce mai come proseguire come fare tutto il resto arrivare soltanto al bacio e poi non sapere come andare avanti quindi per partecipare a questi corsi al vivo è necessario candidarsi non sono corsi aperti a tutti anche molto semplicemente per il fatto che essendo un servizio dove viene impiegato il tempo diretto di una persona non è una cosa che può avere dei posti illimitati quindi è una cosa che ha posti anche piuttosto limitati quindi ci si può candidare in due modi o andando sul mio sito www.approccioalla.it dove c'è la sezione corsi dal vivo oppure anche cliccando sul primo link in descrizione e lì dovrai compilare un questionario di candidatura poi se verrai accettato verrai ricontattato dentro 24-48 ore direttamente dal mio collaboratore la seconda modalità per candidarsi è parlare direttamente al telefono con un mio collaboratore quindi trovi tutti quanti i riferimenti in descrizione sia il numero di telefono per parlare a voce sia il contatto whatsapp per parlare via messaggio in ogni caso però anche se contatti via whatsapp a un certo punto poi dovrai parlare al telefono a voce con un mio collaboratore raccontare un po' quali sono le tue esperienze quali sono le tue difficoltà quali sono i tuoi obiettivi a livello sentimentale in ogni caso comunque sia che ti candidi con il questionario di candidatura sul sito sia che ti candidi chiamando direttamente parlando a voce con il mio collaboratore nel momento in cui la candidatura viene accettata da lì ti verrà fissata una chiamata conoscitiva direttamente con Andrea perciò trovi tutto quanto in descrizione o sul mio sito www.approcciala.it e per chi ci sarà ci si vede corsi al vivo